Il Matino e Branà avanti insieme, non è sicuro ma quasi. In sostanza è quanto su Antenna Sud 85 ha detto nel corso di, aspettando il calcio mercato in onda ogni mercoledì e ogni giovedì sera, la presidente Cristina Costantino. Il progetto Matino può proseguire con l'allenatore che ha vinto l'ultimo campionato di eccellenza, per ora si parla, ma poi probabilmente arriverà anche l'accordo. Allora sicuramente non abbiamo ancora, diciamo così, letteralmente firmato, abbiamo avuto un colloquio, non io perché sono stato in vacanza, devo essere sincera, sono tornato da pochi giorni. Il mio direttore sportivo ha iniziato a dialogare a Branà come è giusto e corretto che si dovesse fare, si doveva ripartire quantomeno dal dialogo con Branà dentro il campionato ed è giusto così. Ci sono delle basi su cui stiamo lavorando, io credo, perché noi questa settimana ci siamo dedicati, fiduizione, problema risolto, domani abbiamo l'omologazione del campo, erano degli step importanti che una matricola doveva fare necessariamente. Dopodiché ci dedicheremo a concludere il discorso Branà che se non ci dovessero essere degli impotti, degli intoppi dovrebbe andare per la riconferma. Io fino a quando non vedo nero su bianco, da questo punto di vista, vi dico, siamo ancora in trattativa. Grazie.